Una situazione davvero molto difficile quella che sta vivendo il Madagascar, c'è una recrudescenza della peste, stiamo vedendo già delle immagini inviate dalla dottoressa Gabriella Rossi, Tecla Ollus che sta sostenendo dei progetti Madagascar tra i quali uno che riguarda il microcredito con 33 donne, 7 delle quali sono analfabete, permette che impiede una fabbrica di borsi e cappelli e stuoie. Ne parliamo con Piero Franchini, sono immagini queste che davvero fanno male anche se ovviamente da una parte in cuore che ci sia chi sta cercando di dare una mano, però insomma è una situazione che fa stringere il cuore. Sì, io era qualche anno che non vedevo queste immagini perché sono stato per lungo tempo in Madagascar e quindi però mi sono subito sentito come si dice un tuffo al cuore e quindi ecco l'immagine appunto che mi ha mandato la Gabriella con la quale sono amico da tempo e tra l'altro sono un po' io che l'ho inviata in questo posto lì per vedere le cose purtroppo brutte che ci sono. Quindi ecco lì c'è bisogno di tantissime cose e quindi è gente con molta dignità che non scappano, cercano di stare nel loro posto, cercano di stare nel loro paese, però hanno bisogno di tutto e quindi soprattutto diciamo che hanno bisogno di cure, di medicine e lì purtroppo non ci sono grandi cose se non quelle che abbiamo messo in piedi tra noi italiani, i francesi che ultimamente forse rifanno un po' di cose, però avevano lasciato qualche cinquantina di anni fa questo paese in una povertà assoluta. Eh sì, la dottoressa che è impegnata in una missione dove non c'è acqua, la situazione è molto dura, ci dice che in questo momento stanno sostenendo un dispensario per bambini malnutriti a Masoa dove viene costruita, si cerca di costruire una casa famiglia, è stata comprata una risaia per produrre riso, nelle zone sono presenti anche delle suore della carità e della trinità. Io mi auguro che nella vita ognuno di noi possa andare lì per vedere e poi cercare di mettere da parte un po' quelle tante cattiverie che ci sono e cercare di dare una mano a questa gente che effettivamente ne ha bisogno.